Bene, andiamo avanti. Andando a Cerveteri, chiediamo al sindaco di Cerveteri Pascucci di verificare tutte le possibilità per bloccare la costruzione della centrale a biogas in località Sasso Pian della Carlotta, per motivi di salvaguardia della salute pubblica. Lo dichiara Nando Bonessio, presidente di Verdi Lazio. La mancanza di un piano energetico regionale, ha spiegato, porta a errori come quello che si potrebbe commettere a Cerveteri. Lo stop alla centrale può rappresentare invece il momento di ripartenza per una discussione regionale su un serio piano energetico che punti all'abbandono del modello della combustione e punti a una scelta programmata e partecipata dai cittadini sulle energie rinnovabili. O spieghiamo che il sindaco di Cerveteri valuti la possibilità di esercitare i poteri che gli sono conferiti per tutelare la salute pubblica e fermare così la realizzazione dell'impianto a biogas. Passata l'estate, ma la rotatoria della vergogna è ancora lì a fare bella mostra di sé con la sua veste di degrado e di desolazione. A bacchettare la provincia di Viterbo, puntando i riflettori sulla rotatoria all'incrocio tra la Litorania e l'ex provinciale Porto Clementino, è l'assessore ai lavori pubblici di Tarquinia, Anselmo Ranucci. Continua infatti le lamentele da parte dei cittadini e operatori turistici. Suona la campanella domani per gli alunni della città di Fiumicino, ma il trasporto pubblico locale continua a fare acqua da tutte le parti, non garantendo così un adeguato servizio all'utenza. E' con i dipendenti del trasporto pubblico locale che hanno deciso di ingrociare le braccia a ottobre, visti i risultati deludenti ottenuti dall'incontro tra sindagati e amministrazione. Consiglieri comunali chiamati domani sera alle 19 a parlare di acqua pubblica. E' questo infatti il tema del Consiglio Comunale della città balneare di Ladispoli. All'ordine del giorno ha spiegato il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Loddo la nomina dei componenti della commissione toponomastica e l'adesione del Comune di Ladispoli all'iniziativa referendaria tutela governo e gestione pubblica delle acque. Bene, adesso lasciamo nuovamente spazio alla pubblicità e ci vediamo subito dopo con lo sport.